Armonia d'Arte Festival, un bene immateriale e condiviso, utile per la valorizzazione del territorio in cui sorge e delle sue professionalità, quale è progetto da spendere a livello mondiale in rappresentanza di una regione che deve necessariamente puntare sulla cultura. Questo è il senso dell'incontro conclusivo con la stampa tenuto dalla direttora artistico Chiara Giordano presso il Museo Marca di Catanzaro. Viare un dialogo nuovo, costruttivo, perché credo che in un momento così difficile, un momento storico, intendo, la cultura e la comunicazione hanno una responsabilità etica. Dialogare significa anche individuare dei percorsi possibili e condivisi per soluzioni, strategie. La cultura, un festival, una fondazione possono fare, ma naturalmente è sempre il confronto foriero delle migliori possibilità, opportunità, risultati. Una proposta innovativa, un brainstorming creativo per un approccio differente che vuole stimolare un dialogo costruttivo con i professionisti del mondo della comunicazione, in grado di dare vita ad un vero e proprio spazio di confronto e dialogo. La scommessa è dare vita ad un festival calabrese della Calabria, capace di far sentire tutti gli attori principali di un processo di crescita e di svolta, che non può che trovare nella cultura e nella sua divulgazione il suo senso più antico e fondante. È stato molto proficuo perché effettivamente è uscita fuori grande passione, partecipazione. Tutti noi abbiamo cercato di fare brainstorming dentro di noi per vedere come dare una mano a questo festival che per la verità ha dato cose pregevolissime alla Calabria e ne ha rafforzato l'identità. Io sono certa che l'avvio di stamattina, questa idea di community potrà avere successo. Certamente niente è semplice, poi ogni attore ha le sue problematiche, ogni realtà ha il suo contesto e anche i media vivono momenti anche difficili. Insomma, il contesto storico ci suggerisce delle attenzioni, anche delle preoccupazioni che è ulteriori naturalmente. Però io sono fiduciosa perché questa mattina io ho visto tanti media per l'appunto, voi, siete rimasti. Siete rimasti fino alla fine, avete parlato fuori dai denti e si percepiva quella libertà che è il presupposto per la creatività progettuale. Tu di sicuro mi rispondi, certo che no.